ciao e benvenuto al mezzogiorno normale con steve benacquist io sono steve benacquist e questo è il mezzogiorno normale con steve benacquist con il mezzogiorno normale con steve benacquist con il mezzogiorno normale io sono il mezzogiorno normale e questo è il steve benacquist bene normalmente questo spettacolo è trasmesso in inglese e il nome è uno scherzo perché in inglese la parola mezzogiorno è non è la parola nuovo è nu 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 admetto che non funziona in italiano mezzogiorno nuovo ma in inglese è super divertente come roberto benì specificamente in la vita è bella che è amito è anche triste nello show discutiamo come la cover 19 stia cambiando la vita e rispondiamo alle lettere come queste di pat in siracusa new york syracuse new york grazie pat bene questo è tutto per questo episodio di mezzogiorno normale con steve benacquist io sono steve benacquist e amici ricordati se non è nuovo non è normale